Allora ragazzi una premessa velocissima, il video che vedrete è veramente speciale, veramente particolare Un episodio del Minecraft 3 che era partito normalmente ma è andato a finire con delle svolte che non ci aspettavamo Un finale che mi lascia un po' così, un po' già, il server vabbè è quello che è, noi abbiamo parlato sediamente Il finale succede una cosa molto particolare come leggete dal titolo, come vedete il termaggio della copertina E niente, volevo farvi questa premessa perché noi non abbiamo preparato nulla Il server l'abbia scelto a caso, pensate dovevamo andare anche in un altro prima di questo Quindi è tutto improvvisato, non abbiamo studiato dietro nulla, quindi niente, vi lascio al video Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati sul Minecraft Report Eh sì, la webcam ci sta anche qui, su tutto, ormai ce la metto tutta, come sale il pepe, ce le metto su tutti È un po' scialato forse dopo, però vabbè Siamo tornati in un nuovissimo server, io e il mio amico Tic Tac Sembra una canzoncina, Tic Tac, quanto tempo mancherà, vecchio Eh? No, niente, niente, tutto ok, non ti preoccupare, sto bene, sto bene, il dottore ha detto che passerà in fretta Quanto tempo, le caramelle, no, caramelle niente Allora, vabbè, siamo entrati su questo bellissimo server Ragazzi, mi raccomando, eh, vogliamo il vostro sostegno, lasciate un bel pollice in su Vogliamo sostegno, vogliamo altre cose, non vogliamo spam di episodi video Perché è la cosa che mi fa girare i malleuli Passate sulla pagina Facebook Basta, non dico più un cazzo Controlliamo questo server Allora, adesso voglio centrare in fronte Entrare in fronte Allora, che misura, non riesco a centrare in fronte Eh, in privato, ecco, soltanto ti dici Nome di server, fatelo in privato Fare, te Ma Mi è semblato di vedere del danno Vabbè, qui, allora, non ci si può picchiare Aspetta, ho visto che l'hai fatto Ho visto che è successo quello che credo No, no, devo riuscirci Eh, ho visto Madonna Devo riuscirci, è una questione personale adesso Devo riuscirci Come si fa adesso? Mi faccio vedere danno Come hai fatto? È vero, scende anche la fame Non è possibile Dai, siamo alla hub Non mi puoi scendere già la fame Ricevo danno E mi viene fame Ma dai Non si possono aprire l'ender chest Perché fa figo Mettici un blocco di qualche strano materiale Sopra l'ender chest Quindi Ah, ma non si può aprire Armature sparse in giro Allora Benvenuto utente Attualmente ci sono 5 persone su 10 Leggi regolarmente a un ricomando rules L'avevo già fatto prima Eh? Be Respectful Che lingua è? Respectful Tanto per sapere Che lingua è? Be ethical Segui un'etica Use Common sense Usa Aramaico Questo è l'aramaico antico Common sense È buonsenso Credo Usa il buonsenso Ma che cazzo È un server italiano Non puoi scrivermi l'inglese Il pressupremo Ah, probabilmente questo Il pressupremo Mi danno la velocità Fa vedere Non sono abilitati Non avete abilitato Manco quello Non avete abilitato Neanche il pressur plate C'è il faction Che è la parte Più scioccosa Ma sinceramente Voglio andare prima dai lotti Poi dopo andremo nel faction Quindi Eh beh Non si possono usare Perché Fa figo Andiamo nei lotti Ok Oddio Buttati Che morbido Che battutone Che battutone Niente Buttiamoci Che morbido Eeeh E se mi andavo a sbagliare Ma sono fissati Con l'acqua Questi qui Ok Oh dai Mi spammenciate Che non posso scostruire Dai Ah si vabbè Siamo nel Nella zona lotti Ci sta che mi diano La creativa Allora Beh dai Sono costruttori Dai sono costruttori Qui si sono messi a costruire Qui c'è un Carretto Trainato da niente Un faro Bello 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 Qui c'è una casa In costruzione Torniamo alla hub Spawn Mi spiega Mi spiega adesso Perché C'è una croce Perché lo spawn Mi porta qui Fai stress spawn Perché mi porta qui Sì Intanto dovrò censurare Sempre Con le immagini di Jose Perché Scusate c'è un errore tecnico Se faccio spawn Mi porta in un posto Che non c'entra una sega Cioè la cosa Non va mica tanto bene Beh Allora adesso Te mi devi dire Che io adesso Ci devo tornare Volando Fin lassù Cioè adesso Io volando Devo tornare Fin lassù Con visto che C'era il portale Per il ritorno Cioè Ma mettere un cavolo Di comando Per ritornare Cioè Un warp Ci sono i warp Warp spawn Mi ha portato Nello p Faction Mi ha portato Il warp spawn Oddio 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 Giù Giù Mettiti giù Mettiti giù Ho visto qualcuno Ho visto qualcuno Cilenzio 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 Vedi Sono dei nomi là Vabbè Credo che quindi Siano statue Ma c'è un nome Che si muove Guardate la mia schinca Bella C'è un nome Che si muove Zitti Fermi tutti Con calma Piano piano Facciamoci sghamare Oh Buongiorno Ok mi sono fatto fregare Come un allocco Ma mi spieghi cos'è sto coso Bello Bello il fabbro Ah è un coglione beh ovvio Allora repair Non va il comando repair Non posso riparare aiuto Reparo non posso riparare Pure il rosso dai Cazzo dai di comando Allora enchant Mi piace la statura sopra è carina Mi piace Mi piace se dà lo spawn Ti danno un fottino di roba Arriviamo qua non ci rimane un cavolo Mi piace la cosa mi piace mi piace Ciao bello ciao bobby come stai Allora warp enchant Non è che ci sono i cartelli enchanting Direttamente vai a culo Vabbè 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 Lasciamo stare Cazzo ci fa Zebo 89 qui Lezzo proprio è marcio È proprio una cosa Non si può vedere È marcio lezzo Cioè proprio non si può guardare Perché c'è anche Super Mario Mamma mia C'ho mal di gola Eh è vero Eh Volevi Madonna se mi viene male con il mal di gola Fosse vero Eh volevi Eh che fosse vero Portali Andiamo ai portali Ok Vabbè ci sta Warp Nether Warp Desert Warp Foresta Yeah Aspetta c'è il comando Warp Sì l'avevo visto prima che c'era il comando Warp Faction Foresta Frame Ugnaio Portale C'è un cazzo Quindi andiamo in uno di questi portali Perché questi abbiamo già guardati tutti Andiamo Dove andiamo? Andare deserto? Andiamo deserto Ti Ah si può aprire? Ah Yeee Che bello Eh Posso Posso aprire le ceste Yeee Vabbè Lasciamo stare Allora Facciamo che mi butto Yeee Di santa Numero di uno Bravi Ma mi ha riportato Alla hub Alla hub Mi ha riportato E di nuovo la roba Della hub Ovviamente Provo a entrare Vediamo se entrando nel portale Me la lascia No non me la lascia Niente da fare Non c'è Cristo che intenga Guarda la mia roba La mia roba Mi è morto male C'è Che cavolata Però Dai Come si fa? Siamo allo spa Siamo Nella zona di ingresso Dai C'è capisco Se ti spa un asse random E allora ci sta Ma è una cazzo Di zona Fissa C'è Devi togliergli i danni Vabbè C'è l'ultimo plugin Del Del faction Quindi vabbè Adesso voglio provare Un paio di comandi Help Non ho acceso al comando Punto interrogativo Yeah Funzione il comando Punto interrogativo Posso vedere Tutti i plugin Che sono dentro Allora Proviamo anche il Come era anche Abbiamo anche solo il PL Oddio Posso vedere anche Tutti i plugin Oh c'è uno lì Non lo sei tu Ma fa culo Eri tu Tutti i comandi Va bene Va bene Vediamo Se c'è Qualc'altra cosa Vabbè Vabbè Questo ci sta Che sia disabilitato Disband Va benissimo Ok vabbè Alcune cose Sono disabilitate Le più importanti Io ora direi Che è il momento Delle parti dolenti Ovvero Fare spawn Per fuggire Da qua Allora La parte dolente Ovvero Controllare La pazienza Dello staffer Sarà una parte Interessante Perché dentro C'è gente Mi si buca Il tab Però dentro C'è gente Quindi ora Chiedo Eri per Che Nessuna Che può Aiutarmi Cosa sta Ho sentito Un rumore Cosa sta Beh dai Non ci credo Che funzioni Eh però male Non mi fa Allora Questa zona C'è La safe zone Vediamo un po' Ok va bene Va bene Dai È settato Con la cosa normale Dai almeno I creeper Non esplodono Ricevo Danno Alla hub E la roba Non mi E la roba Spera La roba Iniziale Non Mi Rimane Cosa Ho letto Ho letto Bene Ho letto Spino Vgf Si è collegata No Fermi tutti Fermi tutti No no Cosa vuol dire Spino Vgf Se è collegata Ciao Aspetta Adesso faccio un po' Vgf Vgf Pino Vgf No adesso Bisogna informarsi Bisogna informarsi Adesso devo Devo cogliere Ti torno le tue cose Ti torno le tue cose Beh grazie Molto gentili Grazie 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 Aspetta Pino Vgf Spera Incaps Incaps Sei proprio Tu Sei proprio tu Aspetta Aspetta No È quella Vera Screen No voglio lo screen Voglio lo screen No voglio lo screen Oh Si invece sono quella vera Screen Ti prego Voglio lo screen Ci voglio lo screen Dai Dai ma No Aspetta Allora Lion Ecco guarda Voglio vederlo Lion Mi giuri Che è quella vera Perché guarda che Aspetta ci rimango male Se non è quella vera Poi dopo Potrei offendermi seriamente Eh Ok La skin è quella Peccato che c'è Skin Restored Per quello Beh la skin Presa col nome Dì che c'è Skin Restored Dì sta cosa Dì sta cosa Dì sta cosa Aspetta Lion Dove è Registrare un video con Steph Con Steph Steph Stefano Steph Si Screen Ti Ti afferma Voglio fare lo screen Ti afferma Scusi Mi scusi Ti afferma Ti afferma Facciamo lo screen Oh È bella Mi raccomando Ti afferma Ti afferma Perché devo fare lo screen Screen Fatto Grazie 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 Molto gentile Molto gentile È veramente Molto gentile Grazie 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 Mi salverò lo screen E lo terrò sempre con me A cuore aperto Dice di aver fatto un video con noi Eh in realtà Sì è vero abbiamo fatto un video insieme Mi ricordo il video l'abbiamo fatto Lucky Race Non me lo ricordo bene E lo ricordo benissimo Ma danno Che cari Che cari simpatici Siamo E siamo Come stai Ma come stai Mi ha scritto Ma tu sei Stefano Stefano Sì Tu sei Stefano No Eh Lei Il signor Stefano Stefano Ah no Stefano Allora Prima Zeb 89 E mo Spina Buggiero No dai Se mi entra anche noi Non ce la faccio Non ce la faccio No a me non parlo Scusate eh Questo Mi sta scrivendo Vi faccio Vieni su TS Sono con Mario E mi dice Non ti dico No aspetta No mi secco E io ho detto Non ti vedo mai sul TS Sì lo so Perché Non lo uso mai E Spina c'è sempre su TS Sì madonna Spina e Lion Sono sempre su TS Mi fa Comunque ciao Stefano Che con la K fai No è un fake Dai non è possibile Che Spina venga qua Non ci credo Gli secca sempre Cioè Gli secca andare su TS E che Non lo usa mai Non è usa mai il TS Ma se sta Quando eravamo Ete Stava sempre online Sempre Cioè Adesso gli è strano Ci sentivamo Sempre Ma dei di te Mi devo Mi devo fingere Stefano Ascolta Posso sgamarmi Posso sgamarmi Vai fallo Spagnia Oddio sei corretta Allora mi ha scritto La tua compagna E andava bene Adesso sei corretto Che ho scritto Compagnia Ah ecco meglio Perché la correzione Dal giusto o sbagliato Suona meglio Ho scritto anch'io in privato Perché sinceramente Parlando Voglio essere più intimo Nella compagnia Guarda Mi avevo detto Se noi dobbiamo fare Mi devo sgamare Che sono io Vabbè E dirmi Spina No c'è Veramente Dai Ho già il titolo Ho già il titolo Per il video Io ho già anche Lo ce l'ho già Lo so perché Mi secco mess Li preferisco qua Che gran cagata Poi Anna non parla così No va là Non parlerebbe mai così No aspetta Lo so perché Mi secco mess Li preferisco qua Ma no ma dai Questo è da farlo screen Mandare a Lion No no Questo la scriviamo a Lion Dai veramente Mi scrivo Veramente Vabbè dai Saluto a tutti Mi faccio sgamare Perché non ce la faccio Dai No saluto Scrivi Scrivi a Spina VGF qua E dilli che sei Davids Dilli se ti riconosci Vabbè dai Ti saluta Cioè Vi conoscete comunque Cavolo Ci parlavo tutti i giorni Con Spina Certo Non tutti i giorni proprio Però ci parlavo con Spina No Questo video Poi glielo passiamo a Lion Questo video Glielo dobbiamo passare Assolutamente Dai Mi ha scritto chi Chi sono Ciao a posto Fake 100% un fake Gli ha chiesto Chi è Ma dai Cioè veramente Si parlavano spessissimo Mi ricordo Dai Bene ragazzi Il video ti è Non mi interessa Mi sono smerdata Ma dove Sì sì Scusate ragazzi Dovevamo dire Non ci saranno voti Aspetta aspetta Mi ha scritto Cosa ho scritto Mi ha scritto Sì come mi chiamo di nome Te lo dico subito Non sono affari che mi riguardano Ok ciao È uscita Non è lei Non è lei Assolutamente Ragazzi Il video si conclude qui Spero che il video vi possa essere piaciuto Questo è un video Forse il Minecraft report più figo di tutti i tempi Quindi ragazzi Spero che il video vi possa essere piaciuto Lasciate il pollice se vi è piaciuto questo video Vi ricordi di lasciarlo se non vi è piaciuto questo video Condividetelo Commentatelo Dovunque Anche al cesto Mi raccomando E niente ragazzi Da Davids A Zenca L'abbiamo dovuta L'abbiamo dovuta sgamare Perché dai Era troppo importante Zeb89 E la Spina VGF Abbiamo avuto due aspetti importanti oggi Possiamo dire Che è Finita Saluta a tutti Perché è importante Vi saluta anche Spina E Zeb intanto Ciao E Volevi Volevi essere la vera Volevi